Alba Parietti, nota figura dello spettacolo italiano, è molto attiva sui social media in questo periodo, aggiornando costantemente i suoi fan sulle sue attività quotidiane. Tuttavia, ultimamente ha sorpreso i suoi follower non solo per i suoi aggiornamenti frequenti, ma per il suo aspetto sorprendentemente giovane. In molti dei suoi recenti video, Alba sembra avere la metà dei suoi anni, lasciando i fan meravigliati e curiosi. Recentemente, durante una cena in un locale che frequenta con il suo nuovo compagno, Alba ha condiviso un video che ha attirato particolare attenzione. In questo video, l'attrice ha mostrato il suo viso rinnovato dai ritocchi estetici a cui si è sottoposta, suscitando commenti e reazioni stupite tra i suoi seguaci. I trattamenti estetici a cui Alba si è sottoposta hanno evidentemente avuto un grande impatto, rendendola più giovane e radiosa. Il continuo aggiornamento sui social e la sua apparizione giovanile hanno fatto discutere molto i fan, che seguono con interesse ogni suo post e video. Alba Parietti continua così a essere una figura affascinante e influente, sia nel mondo dello spettacolo che sui social media, dimostrando che l'età è solo un numero quando si tratta di bellezza e cura di sé.